Al GF VIP 7 Jaele Dedona è una delle grandi protagoniste, ma ha vissuto e sta vivendo momenti non sempre esaltanti Adesso l'attacco nei suoi confronti è arrivato dall'esterno del reality show di Canale 5, da parte tra l'altro di una persona molto vicina a lei Non sarà certamente entusiasta di questa notizia la vippona, che potrebbe essere informata dal conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata del 9 gennaio Parole che hanno sorpreso anche i fan della modella e fashion blogger Una vera e propria dichiarazione bomba contro la concorrente del GF VIP 7, Jaele Dedona Giorni fa la donna si è lasciata andare ad una previsione su Daniele e Nicole Murgia Secondo me finirete insieme, ti dico, secondo me, è questione di tempo, perché è un ragazzo serio, bravo e ho molta stima di Daniele È uno che ha bisogno del suo tempo, però poi si lascerà andare Altrimenti non si sarebbe nemmeno alzato per venire a baciarti, se ne sarebbe andato E anche Luca e Oriana GF VIP 7, Jaele Dedona attaccata dal fratello A criticare fuori dal GF VIP 7, Jaele Dedona è stato suo fratello Mattia, che ha tirato in ballo anche il marito della giovane, Bradford Beck Si è parlato tanto del loro matrimonio aperto, anche se non sono mancate le polemiche per la sua vicinanza estrema ad Antonino Spinalbese, verificatasi tempo fa Lei si è più volte pentita dei suoi atteggiamenti e ha temuto che potessero naufragare le loro nozze Ma vediamo cosa ha rivelato lui al programma Radio Turchesando, al presentatore turchese Baracchi Mattia Dedona ha esclamato sulla sorella Jaele Penso che lei e suo marito sappiano i loro limiti e penso che mia sorella sappia le barriere da rispettare Anche se ultimamente non lo sta facendo So che comunque si fa vedere per com'è È una ragazza sveglia Mia sorella con Taylor Mega? Non so cosa fosse successo Ma erano tornate da una serata più brille del solito ed è successo quello che è successo Comunque tranne qualche piccolo aiuto, Brad ci mantiene con la sua forza, la sua energia E fa sentire mia madre forte come non mai Infine, il fratello di Jaele Dedona ha detto su Bradford Beck Non so perché mia sorella ha detto determinate cose sulla famiglia e suo marito L'ho vista un po' scombussolata Tra l'altro, il concorrente del reality Summer Job di Netflix ha recentemente fatto Coming Out Ciao